Grazie Presidente, grazie a voi di questo invito che mi ha preoccupato perché mi sono detto, ma mi si chiede di parlare di introduzione di innovazione tecnologica all'interno delle nostre aziende. Io mi sono detto, ma cosa racconto a questi signori colleghi professionisti che ne sanno più di me e che comunque in questi anni hanno tutti in qualche modo affrontato il problema esattamente come l'abbiamo affrontato noi e magari l'hanno risolto anche meglio. Per non annoiarvi mi presento anch'io con qualche slide anche se funziona tutto, anche se in realtà il discorso che vorrei fare, siccome non devo vendere niente, è abbastanza semplice. Io non mi occupo di informatica, non sono ingegnere informatico, però mi occupo di tenere in piedi i bilanci e quindi per tenere in piedi i bilanci volevo chiedere a voi, più che dire a voi qualche cosa, volevo chiedere come possiamo fare per compensare in qualche modo le perdite che probabilmente ci saranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni relativi alla carta e come compensarle con qualcos'altro. Quindi non vi parlerò neanche di internet perché io mi occupo di informazione, noi facciamo informazione locale, l'informazione locale è un prodotto unico, quindi è un prodotto differenziato, quindi comunque è un prodotto vendibile. Lo possiamo vendere con diversi sistemi, non c'è soltanto l'internet, in questi giorni siamo molto impegnati a vedere l'introduzione di cose molto nuove, vedremo un po' anche altre DAB, per esempio, cose che voi tutti conoscete. Quindi ho pensato di introdurre qualche elemento di discussione eventuale per capire da voi se stiamo andando nella direzione giusta. Io mi occupo di un'organizzazione aziendale, quindi di introduzione dei sistemi dell'innovazione tecnologica che ci ha investiti negli ultimi 30 anni e che ci ha costretti a fare qualche riflessione e che in questi giorni ci tiene molto impegnati perché ancora cose stanno accadendo. Quindi ho pensato di fare un escurso veloce per capire se stiamo andando nella direzione giusta. Io ho preso come data di inizio di tutto questo nostro percorso il 1984, perché è un anno molto importante, l'anno in cui è stata inventata una cosa che si chiama linguaggio PostScript. Questo linguaggio ci ha costretti tutti a ripensare alle cose delle nostre aziende. Abbiamo per esempio pensato, ma è il caso di riportarci in casa la impaginazione del giornale oppure la lasciamo alla tipografia? E abbiamo visto che c'erano dei vantaggi nel portarcelo in casa. I vantaggi erano determinati dal fatto che i costi sarebbero stati inferiori e che le possibilità di migliorare il nostro prodotto sarebbero state superiori. Così abbiamo portato in casa l'impaginazione, lo abbiamo fatto secondo dei criteri particolari. In quel momento la scelta fondamentale, ed ecco una scelta strategica, sempre di innovazione tecnologica, era ma cosa usiamo? Usiamo quello che si chiamava impropriamente sistema dedicato oppure un sistema aperto. I nomi non rendono giustizia ai due sistemi, però certo tutte e due erano buoni o cattivi, alcuni avevano delle cose interessanti e avevano anche degli svantaggi. Il sistema dedicato, sicuramente specialmente in quel periodo, molto interessante, aveva la grande rapidità di esecuzione. Noi riuscivamo a chiudere il giornale finalmente in modo rapido, anche portandocelo in casa. Ma certo si portava dietro un problema molto grave, intanto un sistema estremamente costoso all'acquisto e poi, purtroppo, anche più costoso per quanto riguarda la manutenzione. Infine, un sistema per niente flessibile nei cambiamenti che sarebbero venuti di lì a poco. Molti cambiamenti, come sapete voi meglio di me. Aveva un vantaggio che poi però si è dichiarato uno svantaggio e anche di questo sarebbe meglio che parlassimo tutti quanti insieme. Il vantaggio era la grande rigidità del sistema, quindi il redattore poteva fare ben poco. Ma in questo modo questo è diventato anche un grande svantaggio perché non ha introdotto entusiasmo per i cambiamenti da parte della nostra piccola redazione, che noi siamo piccoli. Ma siccome per il principio economico secondo il quale chi non ha testa abbia gambe e chi non ha gambe abbia testa, noi gambe ne abbiamo poche, le nostre sono aziende piccole, dobbiamo metterci un po' di testa. E quindi abbiamo pensato, molti hanno pensato, di utilizzare da subito dei sistemi cosiddetti aperti. I sistemi aperti non sono altro che dei software standard, che però è vero che costano poco, ma hanno bisogno di un po' di attenzione per essere introdotti e hanno bisogno anche di riqualificare un po' il personale, diciamo così, io preferisco dire, di responsabilizzare il personale. Una cosa che oggi ci è molto utile in questo momento, perché in questo momento di grandissimi cambiamenti abbiamo bisogno che i nostri collaboratori siano responsabilizzati e facciano qualche cosa all'interno e non siano rigidamente ancorati alla scrivania, perché come abbiamo visto dai interventi precedenti, le cose stanno rapidamente, sono già molto molto cambiate. Arriviamo prima del 96, in realtà arriviamo a un'altra data, il 1991, una data fatidica, perché nasce una cosa che voi conoscete tutti, che utilizzate tutti, e che è il PDF. Il PDF è una cosa eccezionale, perché ci ha fatto anche un po' così discutere con l'allora direttore generale di Adobe, che era il caro Caporossi, che diceva, ma perché vuoi usare il PDF? Noi questa cosa che l'abbiamo fatta per il documentale, l'abbiamo fatta per le banche, l'abbiamo fatta per gli enti pubblici, perché vuoi usare questo formato? Volevo usare questo formato perché è un formato piccolo che ci consentiva di andare lontano, cioè di stampare, per esempio, in tipografie che stavano più lontane, ma che ci offrivano un servizio migliore. E nel 91 l'abbiamo introdotto subito questo PDF, rompendo anche un po' le scatole ad Adobe, perché volevamo, il PDF era un formato indipendente dal device di stampa, e noi invece volevamo dei filtri, cioè volevamo dei driver che ci consentissero di stampare anche a colori. Ma nel 1996, altra rivoluzione che ci ha investiti tutti, il web, siamo entrati nel 1996 praticamente tutti, cercando di fare del nostro meglio, lo abbiamo fatto con la stessa strategia, cioè non abbiamo comperato del software e poi ci siamo adattati noi, noi facciamo gli editori, quindi abbiamo le risorse che abbiamo, non abbiamo dei ingegneri informatici, abbiamo dei bravi redattori, ma che devono fare un certo tipo di lavoro. E tra l'altro siamo anche ancorati a un sistema contrattuale che ci impedisce di far fare loro delle cose che non devono fare, ma soprattutto io non voglio che facciano delle cose, perché non devono essere distolti dal loro lavoro, che è quello di ricercare le informazioni e distribuirle nel modo migliore. Il web nel 1996 è andato bene, noi a proposito del PDF è stato molto facile fare l'archiviazione del giornale, perché anche lì ci sarebbe da fare, sarebbe bello anche soffermarsi un po' di più, ma ho pochissimo tempo sul PDF, su perché abbiamo utilizzato il PDF per l'archiviazione del giornale. L'abbiamo fatto per molti motivi, intanto perché funzionava molto bene, poi era il processo produttivo che ci portava a fare il PDF, voi fate il PDF, lo mandate in tipografia, quindi la nostra redazione non si accorge minimamente del prodotto in più che sta realizzando, perché un PDF lo manda in tipografia e l'altro va indicizzato e viene archiviato. Vedete sui nostri giornali, vedete che abbiamo l'archiviazione con una buona performance del 1993. Certo, portare l'archiviazione interna creata nel 1992-93 all'incirca all'esterno è stato molto facile, abbiamo attaccato la nostra archiviazione, una rete esterna che è l'internet, con performance che tuttora sono molto buone. Ecco i risultati di questa archiviazione, ma molti di voi la utilizzano già. Noi sappiamo per esempio alla faccia della privacy che l'archiviazione è un prodotto interessante per gli studenti, perché fanno delle ricerche, ma soprattutto per gli studi professionali. Ne vediamo molti avvocati che cercano delle cose qui all'interno, e questo perché probabilmente con i tempi della giustizia, quando si va a giudizio, ci si è dimenticati perché si è fatto causa, e quindi si va a vedere che cosa è successo. Tutta questa cosa si chiama integrazione, come sapete molto bene. L'internet è soltanto una piccola parte di questa cosa. Sempre nel 1996, siccome avevamo il giornale, tanto era un PDF, è stato molto facile venderlo, quindi l'abbiamo portato in vendita immediatamente, queste sono schermate che un utente si trova, poi le pagava già nel 1996 con la carta di credito e siamo andati avanti. Ma l'integrazione è andata molto avanti quando ci siamo trovati a dei nuovi sistemi, ne abbiamo già parlato, tablet, mobile, eccetera, un, dottoressa Giancola dice 63%, ma sicuramente un italiano su due ha uno smartphone in tasca, e quindi abbiamo visto che il mobile era una cosa molto importante. Così si va sul mobile e si va avanti. Ma come si va sul mobile? Facendo delle app? Anche qui è un discorso strategico, io lo chiedo a voi. Noi abbiamo pensato di no, abbiamo pensato di no, vedremo come andrà nel futuro, mi sembra che stiamo andando in una direzione molto diversa, cioè noi abbiamo pensato a web app per comprare, per leggere il giornale. Perché? Perché io non sono un ingegnere informatico, e perché non ho nessuna intenzione di fare app dedicate per ogni device che mi viene fuori tutti i giorni. e quindi desidero che i miei redattori facciano il loro mestiere e possano distribuire il prodotto indipendentemente dal sistema operativo a cui sono destinati. E così siamo andati avanti. Ecco, queste sono velocemente le schermate che trovate su un qualsiasi telefono, vi sfido a leggere il giornale però sul telefono, e sul tablet sicuramente si legge molto bene. Ma ecco l'ultima, l'ultima, la granza, davvero una innovazione strepitosa che ci deve far molto pensare tutti quanti, e cioè nel 2010 viene lanciato un altro linguaggio, si chiama HTML5 nativo, è un linguaggio macchina molto interessante, adesso è già molto maturo, noi ci siamo buttati su questo linguaggio, perché? Anche per le stesse ragioni di prima, cioè la stessa strategia dotata dall'84 fino ai giorni nostri. Cioè noi non abbiamo dei ingegneri informatici, e quindi abbiamo bisogno di creare una piattaforma facile che sia pilotabile da tutti i redattori, non da ingegneri informatici. Questa è una cosa importante che poco tempo dopo ci ha portati a fare un nuovo prodotto, io non è che vi parlo di niente, vi parlo di prodotti, noi dobbiamo vendere, un prodotto che abbiamo lanciato domenica scorsa, e che pare funzionare insomma, e che è frutto di tutta questa integrazione, vedete tutti questi device, io devo poter distribuire il mio prodotto che è unico, che è l'informazione locale, che non ha nessun altro, e che nessun altro può fare bene come la facciamo noi, e di poterla lanciare su diversi sistemi. Ecco tutto l'integrazione che in questo momento, i giornali, adesso qui vedete il Montferrato, ma c'è il piccolo del Sancio, ci sono giornali che utilizzano la nostra struttura organizzativa, che non è un software, è un'organizzazione d'azienda che noi introduciamo qui all'interno, e tutto questo ha portato a un'integrazione che prende video, prende audio, vedete c'è un punto interrogativo, non si capisce bene di che si tratta, ma noi da parecchio tempio facciamo dirette tv, per esempio, che sono oggi abbastanza semplici da realizzare, più semplici di qualche anno fa, ma che l'HTML5 ci consente di fare in modo ancora più semplice. E nel punto interrogativo si vede dub, se qualcuno sicuramente ne sa qualche cosa, perché anche l'audio, anche se questo è un paese che si arrocca dietro alle solite lobby, e che impedisce a chi fa il mestiere di poterlo fare bene, ma può darsi che anche in Italia, prima o poi, anche digitale, dopo 20 anni, da 15 anni esiste in Europa, può poi darsi che esca anche da noi. La nostra informazione può andare in tutte queste direzioni, senza bisogno di ingegneri informatici, senza bisogno di nessuno che ci chieda assistenza per gestire delle cose che sono nostre, e facendolo anche con un grande vantaggio interno, cioè quella riqualificazione interna di cui parlavo prima, in realtà è semplicemente l'entusiasmo che io vedo attorno a me, nei miei redattori, che sono contenti di fare qualche cosa di nuovo, lo fanno certamente nel rispetto del contratto di lavoro, fanno forse anche qualche cosa in più, e ci mettono anche del loro per realizzare prodotti che sono migliori. Io, proprio domenica scorsa, abbiamo lanciato una cosa nuova, che è abbastanza interessante, e che deriva da un lavoro cominciato a settembre dello scorso anno, cioè con l'HTML5 noi ci siamo detti, ma dobbiamo fare una piattaforma che ci consenta di amministrare un sito internet, anche per chi non è un ingegnere informatico. Come lo gestiamo questo sito internet? Lo gestiamo attraverso dei telefoni, dei telefonini, di qualsiasi genere, perché i miei collaboratori, i redattori, i collaboratori esterni, quelli che hanno anche un contratto, diciamo, non di collaboratori, di redattori assunti, ne abbiamo tanti in giro che fanno il pezzo per il giornale, e questi hanno, che cos'hanno? Se hanno un tablet è già tanto, sarebbe veramente tanto, ma sicuramente hanno un telefonino. Allora prima dobbiamo creargli una piattaforma che consenta loro di intervenire all'interno di un sistema, in questo caso l'abbiamo pensato per immobile, riteniamo che il mobile sia una delle cose, vedo che Telecom è contenta di questo, che il mobile sia la cosa più interessante che c'è in questo momento per distribuire diversamente dalla carta la nostra informazione, e abbiamo creato questa, è la piattaforma che si trova il redattore sul suo telefonino, e abbiamo fatto quello che qualcuno avrà già visto sul mobile, che è una cosa semplice, per i più smanettoni vedranno che c'è una certa copiatura a Windows 8.1 che sta per uscire, uscirà il mese prossimo come sistema operativo, una cosa semplice, bottoni grandi, e dai campi di calcio, attenzione, dai campi di calcio di basket per lavoro, ma non del Milan e della Juve, ma i campi di calcio dei pulcini, della canottieri, voglio dire, quindi che è la nostra informazione, noi non facciamo il Milan e la Juve, e questi possono inviare in tempo reale il risultato, un commento, una piccola cronaca in stile Twitter, cioè 140 caratteri, molto veloce, e possono inserire video, audio, interviste, fotografie prese al volo, c'è anche un po' di pubblicità perché dobbiamo mangiare, quindi c'è anche un po' di pubblicità. Ecco che cosa succede, ci sono le classifiche in tempo reale di tutti gli sport locali, perché abbiamo fatto questa cosa qui? Perché siamo appassionati di nuove, di innovazioni? l'abbiamo fatto perché voi dovete calcolare che tutti quelli che fanno un'attività sportiva, più o meno, quindi ragazzi giovani, meno giovani, tutti quelli che hanno almeno una mamma, e almeno una zia, e una fidanzata, moltiplicate questi numeri, e vedete che questa piattaforma genera numeri assolutamente straordinari e quindi vendibili. Chiudo dicendo qual è la mia proposta, la mia opinione, la mia opinione, intanto sentendo prima, cioè mai numeri di internet, voi non riuscirete mai a sviluppare numeri, siamo dei giornali locali, quindi abbiamo numeri piccoli, per quanto grandi siano i nostri numeri, sono poco appetibili. Bene, io ritengo che tutta la strategia che noi ci mettiamo, la passione, la voglia di fare le cose, possano trovare uno sbocco con delle economie di scala, cioè con uno sforzo, diciamo, comune nel fare alcune cose. Infatti, le economie di scala, non lo insegno certamente a voi, perché costituiscono un sistema per diminuire i costi generali, ma attenzione, tra i costi generali ci sono costi per investimenti, e internet, il mobile, il DAB, la TV web, sono tutte cose che rappresentano un cantiere aperto, quindi hanno bisogno di sviluppo, e sviluppare, fare una riga di codice per un giornale, farlo per 100 giornali, costa esattamente la stessa cifra. Credo che con questo sistema si possano sviluppare anche ricavi, perché un sistema commerciale con delle regole precise, diciamo, per tutti, consente anche ai clienti di non essere disorientati quando comprano da noi, perché qualche volta non sanno se stanno comprando bene o se stanno comprando male, e invece io ritengo che da noi potrebbero comprare molto bene. Chiudo con una farfalla che è bella, ma per dirvi che la mia opinione è un po' darwiniana, cioè io non penso che, prima parlavo nella carta, non sopravvive, non sopravvive, non sopravvive, ma qui sopravvive non chi è più furbo, chi è più bello, chi è più intelligente, qui sopravvive chi sa adeguarsi meglio ai cambiamenti. Grazie. Grazie.